Iniziò la sua attività nel 1970 con il teatro per ragazzi, e successivamente con testi per la radio e la televisione. Poco dopo seguì anche il suo debutto in teatro, dove affianca il già famoso fratello Paolo in femminilità, 1972, giocando in un ambivalente scambio di ruoli. A metà del decennio si mette in proprio, scrivendo i suoi testi e interpretando un suo personalissimo stile teatrale, sempre contraddistinto da una verve comica, ironica e satirica molto raffinata. Tra i suoi più riusciti spettacoli teatrali, Liquidi, 1976, Passi falsi, 1979, C'era una volta, 1980, Donne in bianco e nero, 1994, Sorelle d'Italia, 1995, Deliziosi veleni, 1997, Antologia in attesa di una catastrofe, 1998, di Stefano Benni, per Dorothy Parker, 1999, Omaggio alla famosa scrittrice statunitense. È il libro Cuore ed altre storie. 2010, di cui è autrice in collaborazione con Angelo Savelli. Svariate anche le sue interpretazioni come attrice televisiva e cinematografica. I ruoli di contorno, nella pellicola Gostanza da Libiano, 2000, di Paolo Benvenuti è stata invece l'omonima protagonista.